Buonasera amici della Premier League, siamo con l'uomo Sky della serata. Caro Sergio, dopo ti chiedo di fare una foto anche a Cico Purgatorio, uomo Sky, autore di una grande prestazione, vittoria sofferta per il barley, come hai visto il match caro Cico, un po' nervoso. Sì, un po' nervoso perché sapevamo che era una bella squadra, facevano girabene la palla, è stato molto duro fisicamente il gioco, però insomma ce l'abbiamo fatto con vari episodi che ci hanno reso felici. Oggi ti devo fare i complimenti perché hai realizzato tre gol se non sbaglio, mi sembra una tripletta e ottime giocate soprattutto. Sì, io cerco di dare sempre il meglio, poi purtroppo il fisico è quello che è, perché posso farcela, do tutto il meglio di me stesso. Caro Cico, non andare mai in pensione, mi raccomando. Ma se vuoi in pensione lo fai sempre col calcio del cuore. Oggi grande prova anche del portierone Coppola, come l'hai visto in Porta? Sì, lui non c'è mai, ma quando c'è si fa vedere. È bravo come portiere, non c'è da dirgli niente, oggi è stato messo il meglio, ha salvato anche qualche occasione. E' stata una bella partita, sia fisica che sportiva, alla fine ci siamo divertiti tutti quanti. Due parole sullo Suonci, come lo hai visto? E' una bella squadra, giocano bene al calcetto, sanno mettersi bene in campo e penso che il primo posto, non lo so, comunque il secondo e il terzo sicuramente ci possono arrivare. Obiettivo invece per il Barley? Divertirsi, metà classifica va bene, ci va bene. Tanto siamo sempre diversi, quindi l'importante è divertirsi. Domani ti ricordo l'appuntamento, non so se ci sarai con il Sassuolo, sempre onnipresente qui al Palachecco. Giocate contro il Verona, come vedi il match caro Cico? Sinceramente non conosco il Verona, non ci ho mai giocato, però vedremo, daremo il meglio. Poi so che Fabio Ferrari non c'è più fra noi, purtroppo cercheremo altra gente, vedremo un po'. A lavorare eh. A lavorare certo, e niente. Salutiamo anche il Presidente Marrocolo, Fabio. Fabio, eh Fabio purtroppo adesso ha problemi, stirametti, cose varie, non c'è. E boh, vediamo che viene. Ti ringrazio per l'intervista, ciao Cico. Ciao Checco. Grazie a tutti.